Amiche ed amici bianconeri mi raccomando, iscrizione al canale, likes e commenti. Sentiamo le parole di Mr. Montero. Questa sera non abbiamo creato tanto, anche se abbiamo avuto un buon palleggio. Abbiamo giocato contro una squadra matura, con esperienza, che lotterà per vincere. Questa sera ci deve servire come crescita, perché questo è il genere di partite che si vincono o si perdono per i dettagli e con i giocatori esperti si rischia di venire castigati. Bisognerà essere più concentrati sui singoli episodi e crescere difensivamente, perché nel calcio italiano è una fase importante. L'esperienza aiuta a capire, per esempio, quando tenere la palla e leggere i momenti delle partite. Comunque stiamo migliorando anche a livello di approccio e dobbiamo continuare con questo cammino, lavorando insieme perché abbiamo molti giocatori che hanno un bel futuro davanti. I nuovi arrivati si stanno adattando e sono un valore aggiunto, saranno davvero molto utili con la loro qualità. Grazie. 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 Grazie.